Android, questa sera siamo qui all'evento Samsung dove in esclusiva è stato presentato il nuovo Gear S2. Cosa c'è di nuovo? Essenzialmente cosa cambia? Cambia il quadrante, c'è la nuovissima tecnologia che consente di gestire il dispositivo mettendo le dita sopra il display al minimo perché grazie al quadrante capace di ruotare noi possiamo avere accesso al menu del dispositivo così come al programma dedicato allo sport ma anche ad altre tipologie di applicativi qui vedete il meteo, la musica eccetera eccetera. Finalmente sarà possibile gestire il dispositivo senza doverlo essenzialmente coprire. Migliorata anche l'estetica, la compatibilità del dispositivo ricordo che è essere retrocompatibile quindi partiamo da Android 4.4, un giga e mezzo di RAM e in su ovviamente il dispositivo sarà compatibile esteticamente, è molto molto bello, ci sono due bottoni laterali, premendo questo con un po' più di forza è possibile, scusate un attimo, no scusatemi, premendo sullo schermo con un po' più di forza è possibile cambiare le watch faces che sono state migliorate e disegnate da importanti designer fra cui uno italiano. Questa è la nostra video preview amici di Tecnandroid, noi vi diamo appuntamento a quando potremo recensire completamente il dispositivo, lo smartphone vi ricordo che sarà disponibile negli store a partire dalla fine di ottobre. Grazie a tutti amici Tecnandroid.